Ed eccoci ai risultati del weekend calcistico appena conclusosi. Partiamo dal campionato di Serie D, la seconda giornata del girone di andata. Ciserano-Ginatese 4-0, Como-Scanzorosciate 3-0, Legnago-Salus-Virtus-Bergamo 0-2, Mantova-Caronnese 1-1, Pontisola-Sondrio 0-0, Prosesto-Villa-Franca-Veronese 1-0, Rezzato-Darfobuario 3-0, Villa-Dalmè-Ambrosiana 1-2, Seregno-Caravaggio 2-2. Un pareggio per il Sondrio che in classifica si trova a due punti. Terza giornata di andata per il campionato di promozione, Altabrianza-Tavernerio-Visnova-Giussano 1-1, Aurora Calcio-Casati-Arcore 3-1, Barzago-Viberonchese 1-0, Basiano-Masate-Speranza-Grate 0-2, Biassono-Brianza-Cernusco-Merate 2-1, Dipo-Vimercatese-Lissone 1-3, Luciano-Manara-Concorezzese 0-0, Menaggio-Colico-Derviese 0-4. La Colico-Derviese è in prima posizione con sette punti a pari merito con Visnova-Giussano. Prima categoria, terza giornata di andata, Arcadia-Dolzago-Albiattese 1-0, Berbenno-Ars-Rovagnate 1-0, Calolzio-Corte-Missaglia-Maresso 0-2, Chiavennese-Grosio 2-1, Cosio-Valtellino-Giovanile-Canzese 2-0, Costa-Masnaga-Besana-Fortitudo 3-3, Dubino-Vedugio 1-2, Olympic-Morbegno-Olimpia-Grenta 1-1. In classifica in prima posizione nove punti Arcadia-Dolzago, sette punti per Chiavennese, Olympic-Morbegno e Cosio-Valtellino, sei per Berbenno, cinque Costa-Masnaga, quattro punti Giovanile-Canzese e Olimpia-Grenta, a tre punti Calolzio-Corte, Vedugio, Grosio, Albiattese e Missaglia-Maresso, due punti Dubino, un punto, Besana-Fortitudo, chiude Ars-Rovagnate, ancora zero punti. Infine la seconda e terza categoria, la terza giornata di andata, Ardenno-Buglio-Prata-Calcio 2-1, Bormiese-Valchiavenna 2-3, Penta-Piateda-Livigno 5-1, Piantedo-Delebio 2-1, Polisportiva-Villa-Albosaggia-Ponchiera 1-3, Sondalo-Atletico-Cosio 2-3, Talamonese-Tiranese 1-3, Valmalenco-Sport Club-Dongo 0-0, riposava Alto Lario. In classifica 10 punti Valchiavenna al primo posto, 9 punti per Talamonese, Bormiese-Albosaggia-Ponchiera, 8 punti Ardenno-Buglio, 7 per Alto Lario, 6 Penta-Piateda, 5 punti per Tiranese e Sport Club-Dongo, 4 punti per Valmalenco-Atletico-Cosio-Prata-Calcio e Piantedo, 3 punti Delebio, 1 punto per Sondalo e Polisportiva-Villa, ancora zero punti per Livigno.